Ci sarà anche un laboratorio di danze popolari ogni giovedì alle 19.30 a partire dal 20 ottobre, tra i corsi in programma per il primo quadrimestre dell'Università Senza Età. L'edizione 2022-2023 di questa avventura culturale si rivolge a tutta la città e per il settimo anno prevede diverse attività. La parrocchia di San Pietro ha predisposto un fitto calendario di corsi tra inglese, astronomia e storia, oltre che danza, grazie come sempre alla collaborazione di Maria Lupo, Cettina Ginevra e Fiorella Falci, che da anni mettono a disposizione del progetto le proprie competenze e il proprio tempo. E dunque la parrocchia si prepara ad accogliere i corsisti che, senza dover affrontare i samifinali, decideranno di frequentare le lezioni di quest'anno. È un appuntamento fisso nella tradizione ormai della parrocchia, ma della stessa città di Caltanissetta, perché sono tanti anche i cittadini nisseni che giungono da ogni parte della città, per partecipare ai vari corsi, alcuni storici, come il corso d'inglese, uno dei più antichi in questa istituzione dell'Università senza età presso la nostra parrocchia, altri nuovi, come quello della storia controversa, vicende particolari, personaggi particolari, storie che sembrano apparentemente irrisolte nel territorio locale e che verranno raccontate da studiosi che approfondiscono questi temi. Il corso di astronomia, come anche il corso legato alle danze popolari, il laboratorio di danze popolari. E sono tanti i docenti coinvolti che gratuitamente svolgono questo servizio. Ricordo sempre che l'iscrizione è gratuita, che non sono previsti esami finali, che tutti possono partecipare. E' vero che noi chiamiamo queste istituzioni Università senza età, ma non occorrono titoli di studi particolari, perché è un momento culturale, un momento caritativo di aggregazione, come tanti altri che ne viviamo in parrocchia, dove ci si ritrova insieme per stare insieme e per conoscere, per fare esperienza di conoscenza. Si inizierà il 18 ottobre alle 17.30 parlando di Monsignor Guttadauro. Donna Antonino Romano, docente ordinario di catechetica presso l'Istituto Sant'Ommaso di Messina, che verrà a parlare del rapporto tra Monsignor Guarino e Monsignor Guttadauro, il Cardinale Guarino originario di Montedoro, Monsignor Guttadauro originario di Catania, ma fu il secondo vescovo della diocesi di Caltanissetta, e in quell'occasione sarà presentato ufficialmente il numero 9 della rivista nazionale di catechesi, numero 9 che è una monografia che è stata dedicata tutta al vescovo Monsignor Guttadauro, dove figurano articoli scritti da diversi docenti, sacerdoti e nonna della diocesi di Caltanissetta.